Alla fine i piani di legno vengono rimosso Miki Nevica Nevica Sì Sì Pocchino Sì Neve Si vede male Tutti Non soltanto gli ospiti Ma anche quelli che lavorano e hanno contribuito Neve Un evento spettacolare È il momento di pensare a come progettare l'albergo di ghiaccio Numero 18 Che dovrà essere ancora più fantastico di questo Vedi si vede poco Eh ma si vede Amore Lo vedi Sì Guardala Oh Dio amore Guarda 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 Sì! Sì! Yuppie! Oh, I love the snow! Oh! Ciao ragazzi! Oggi è una giornata abbastanza, oserei dire, chiara qua a Lucca. E lo vedrete anche dalla luce che c'è in questa stanza perché è molto chiara. Chi di voi arriva a capire il perché è così chiara? Ha nevicato! Non nevica mai mia Lucca, è una cosa pazzesca! Ha nevicato! E sto contentissima proprio perché non nevica mai. E per una volta che ha nevicato, ha attaccato Bao. Ora ve lo faccio vedere. Guardate! Attaccatissimo! E adesso esco e ve la faccio vedere per bene. Tanto mi sono munita di... Scarponzini. E adesso andiamo. Vi faccio vedere il mio presepe, il mio albero. E la mia cosa con tutti i dolcini che li ho già spazzolati un bel po'. Vedi tutte le decorazioni natalizie? Io l'adoro il Natale! Vedete ti 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 ti! Yeee! Natale! Quello è il mio albero, ma è tutto ricoperto, non vedete niente. Ah! Papà ha spalato il vialetto. Prima vi assupo di che era tutto coperto di mettere le foto. Un'altra parte qui riche è un bel po' di acqui. Tempo. Mi ha scaricato un rapporto non vedete. Non vedete? Ti 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 ti. ragazzi c'ho da farvi vedere la cosa più bella di questo mondo guardate l'impronte di un gattino che carino non so quanto aveva freddo guardate quanto guardate com'è a fondo è incredibile e nevica ragazzi non so se lo vedete ma sta ancora nevicando un pochino poco poco guardate quanto ce n'è è incredibile è incredibile il televisore mi sa che sarà fuori uso mi dispiace per voi anche il frigorifero credo proprio che se ne vada l'olivo ora ci devo passare sotto speriamo che non mi arrivi una nevata addosso che carino è natale ragazze no veramente è spettacolare ma poi fate che qua voi magari ci saranno qualcuno che abitano in montagna e quindi le sembrerà tutto normale ma vi assicuro che per qua look è spettacolare questa cosa certo un po' un disagio per la viabilità devo dire perché noi qua non è che siamo proprio diciamo abituati e comunque preparati ad una cosa del genere guardate che bella sembra un po' il disagio di quei quadri è bellissima questo è il piazzale che io ho davanti a casa tra cui qua tra pochissimo comunque presto se ho voglia ovviamente farò un bel alberino di natale che si è che alberino di natale che ti dico un bel pupazzolo e niente ragazzi qua è tutto innevato durerà pochissimo lo sappiamo già però un tanto c'è stata un'atmosfera molto natalizia poi è bella dai ma gli dice tanto la neve e niente spero che possiate passare delle buone feste innevate se vi piace la neve non innevate se non vi piace la neve e nulla vi mando un bacione e ci sentiamo prestissimo nel prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. 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 È piccolino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.